Qui Mattis, ben ritrovati ragazzioli, oggi saremo nella parte delle FBI Deckmatch 2, perchè ho tutte le armi e allora il video viene meglio Allora raga Cazzo Sì però a differenza di quello lo faremo in terza, poi magari se lo rivolete in prima scrivetemelo nei commenti se lo rivolete in prima Merda Quella carabina ha molta più puntatura Dai forza, forza Ragazzi recuperiamo subito subito Bello colpo, sì Devastato Allora raga, qua io voglio stare attentissimo Ragazzi ora qua facciamo il culettino Mi sono preso un colpo E raga Adesso metto una cosa qui Solo che lui mi sente perchè è un mio amico Sto giocando Cazzo Mamma mia Ora magari metto un pochino in prima persona Prendo qualche kit Oddio raga Sono in prima persona, ora è più difficile per me Ucciso Oh gli voglio stare attento Oh gli voglio fare attento Ragazzi raga No speriti ragzo Vediamo Ah sì già l'ho capitato L'ho capitato L'ho capitato Tra un po' Poi tra un poco uscirà un altro video con l'editor Ah poi lui farà nel canale un film, un trailer dell'editor Di un film che uscirà come io faccio GTA Vita la VIP Molti di voi lo conosceranno visto che ne ho caricati tanti nel canale Ora però voglio cercare di concentrarmi anche di più sui miei vecchi video Nel senso come li facevo una volta Con la voce Mi facevo un po' laggato qua Non può mancare certo il lag Adesso Ero dietro di te Eh sono in prima persona Quindi pensate che è difficile in prima Comunque appena uscirà il gioco completo di FIFA 16 Dottor Matt farà un video Ok raga Forse l'avrà prima dell'uscita Lui dice che l'avrà prima dell'uscita Ma io non vi dico niente Lui dice così però Non voglio mettermi tipo cose Cazzo Dice il 23 che uscirà Così il video di FIFA Il 24 potete sul suo canale Mi raccomando Io spero che vi sto intrattenendo Anche parlando di questo Cazzo Britta Menta Dunque Adesso facciamo il devasto Basta Il devasto Oggi ho voglio il devastare Che cazzo è che mi? No ma dov'è? No Ma dove cazzo? Ragazzi non ci sto capendo niente Ragazzi non so se voi avete capito questo del Knet Non ci capisco come cazzo l'ho ucciso Io come lui mi ha ucciso Non ho capito come lui ha ucciso Ecco io l'ho ucciso lui Ha fatto che ho fatto con i miei raggi Fuocano bene Che ha fatto tutto sto fuoco Oh Ma che cazzo Minchia questa visualizzazione Non ti capisci ma è un cazzo Senti ho fatto appena capire Che lo ho capito non c'è un cazzo Vediamo Oh Merda L'ho fatto proprio spararlo Prima che l'ho se poi Dove sarai rimasti Poi magari farò una nuova serie Comunque a guardare e mettere anche tutti i miei iscritti Siamo quasi ai 50 iscritti Che mi porterò cosa speciale Se ci arriviamo E spero di arrivarci Che cazzo Come cazzo sali Oh che cazzo Ma raga mi sono abito di impatto Poi magari un giorno farò un vlog Non so quando Che poi tra un po' mi piaccio Per attrezzatura migliore Che ancora non ho Tanta attrezzatura Quindi ho fatto qualche Qualche video Poi magari Se divento la bestia Visto che avete visto Scusi mi cazzo la bestia Però ho in tanti di slack Che senza motivo Perché se lo vanno a vedere Io cazzo la bestia 11 di slack su cui Invece che a me non cazzo di senso Perché ho detto Cazzo la bestia E non cazzo la bestia Allora Questo vetro di merda Che era no Però è ovviamente il camper Anche quando uno Ogni volta Ha un vantaggio Ah no Sono in vantaggio Che raga Qua devo stare Attentissimo Sicuramente morirò Se lo sapevo Questa visuale In prima persona È una merda Nel senso Non è che fa schifo Come è fatta Ma nel senso Quando fa le capriole Ma ora non so più passare Vabbè non posso più di qua Tanto c'è la C4 L'ho vista Io l'ho preso per il culo L'ho fatto Il miglior stroll dell'anno Beh anche se ci sono migliori Piaccio una mina qui Che maglietto Simbolo rockstar Questa visuale 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 Listo Ok, adesso è il bagno che ho cambiato un pochino Perché voglio dire che magari poi camperava Comunque non voglio camperare un video per non annoiarvi E io spero che nemmeno io devo stare facendo qui Come una merda Che poi nemmeno lo so trovare Eccosi, bastardo Mi ha fatto un dashic incredibile No, no, no Guarda, non muorevano più la mira, raga Sì Raga, ha detto che è culo ed è morto Appena ha detto che è culo Raga, mai sottovalutare l'avversario Anche quando è morto Voglio aprire la porta E avevo paura di suicidarmi Merda Cazzo mi stavo per suicidare Merda Merda Raga, mi sto cagando Mi sto cagando Mi sto cagando sotto Cazzo Cazzo Che po' cazzo Ah, è eccesso Però, mi avrà messo qualche trampe Ucciso Con la lancia granate Raga Chiletta Crepa, crepa Sì, è ucciso Ma è potentissima quest'arma Poi Poi a breve ritorneranno alle gare ammalate Poi magari anche alle gare troll Pensa, soprattutto quando c'è Dr. Matt Lui con le gare ammalate Ne facciamo tante Raga Raga, qua devo stare attento Un bel jump Dai, dei jump Raga, poi scrivetemi nei commenti Che cosa volete vedere Madati In GTA Gare troll Gare ammalate Poi non so quando farà il vlog Forse lo metterò come speciale Così Non ne sono sicuro Però Lo metterò Oh cazzo Potevo uccidermi, raga Mi ero messo a parlare Non l'avevo visto Mi sono smalizzato, raga Adesso cambia un po' arma, dai Adesso Raga, sei suicidato Raga, magari, non lo so Forse vi poterò un altro video di FIFA Visto che ne ho fatti poco Di pass Però le gare quelle sicuro ci saranno Poi voglio cercare un po' Di fare un po' anche di meno GTA Vita la VIP Nel senso Ma è anche perché sta quasi per finire La serie GTA Vita la VIP Poi è anche una sorpresa per voi Dopo che è finito GTA Vita la VIP Non vi dico niente Che sta bene a segnata Ti ricordo, il fuoco è rapido Sono velocissimo, magari Lo sapevo che dovevo prendere l'MG Da combattimento il migliore Una dei migliori, secondo me Però non so voi Ora prendo questa qua È buona Questa volta Ve la consiglio Da combattimento Allora Sicuro ora qua ci sarà una bomba O qualcosa di genere Questa arma spara chiodi Eh, dalla Perché mi spara chiodi Allora fa un maletano Cazzo No, va a fanculo Vero quel mirino Oh raga Mi butto Mi butto così Tra la lotta Sì Cazzo Da ora vediamo Voglio usare qualche altra arma Uso questa qua Una calibro 50 Voglio umiliare il mio avversario Lo voglio umiliare Ci proverò solo una volta Però Umiliato raga Visto che l'ha ucciso Ci riprovo Ha avuto Un'occasione Si è messo a saltellare Come con i nichi Ucciso A distanza Umiliato due volte Insoprattutto a distanza Ancora peggio Stavolta no Pensate che rischi Devo correre A quest'armi Adesso userò Una pistola Di merda Normale Ucciso con la pistola Normale Ancora peggio Della calibro Adesso provoco La pistola tiratore Che qua può fare Le capelli che Nei posti chiusi E' una merda Solo nei posti aperti E' buona Raga dovevo ricaricare Questa pistola Non ve la consiglio Nei posti chiusi Ma tipo a distanza Tipo nel senso Tipo così Non va bene A distanza Tipo però dipende Se quella c'è chi Non mi indica Dipende chiaramente Tipo sul livello basso Cosa del genere Scusate la mia voce Si è tipo un po' strana Ma un po' Di mal di gola Ok Mamma mia Che kill Ma l'ha fatta pure a me Però ogni volta Ma non capisco un cazzo Quando mi killo Vedi Poi guardate Che figa questa calibrazione Visto che sono in prima persona Guardate questo silenzio Mi è piaciuta tanto Sta cosa Dovrebbero aggiungere Più spesso Adesso gli facciamo Un bel troll Almeno ci provo Se no lo uccido Bonalmente Ovviamente Io non verò mai lì Un bel rezzo Mmm Raga dove cazzo è La raga Si è preparata Di con I cosi Ucciso Raga Siamo quasi alla fine Di questo video Cerco di fare Qualche ultima azione Cambiamo Metto questa Questa Sì Bitch Ma che cazzo Si è ucciso Raga Provo ancora a fare Qualche ultima kill Dai dai Ucciso Adesso prendiamo Una mitra Tra di niente Uso tutte le armi E abbiamo vinto Se il video è piaciuto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ciao Ciao